L'agricoltura è spesso accusata di inquinare il pianeta, ma le buone pratiche messe in campo negli ultimi anni, favorite dalle direttive europee e incentivate dai programmi di sviluppo rurale, hanno permesso di ottenere risultati apprezzabili e importanti rispetto alle sfide a cui è chiamata l'agricoltura. Diciamo che l'agricoltura aveva già importanti scadenze sugli obiettivi 2020 dell'Unione Europea e quelli stabiliti dall'Italia sulla riduzione delle emissioni, obiettivi che abbiamo praticamente raggiunto, grazie a un impegno forte delle aziende zootecniche, ma di tutta l'agricoltura italiana. Noi abbiamo due impegni particolari, uno sui gas climalteranti, quindi soprattutto metano e protossido di azoto, e un altro sulla qualità dell'area che riguarda l'ammoniaca. Su tutte e due le questioni l'agricoltura ha fatto grossi passi avanti e abbiamo avuto forti riduzioni di emissioni. Parliamo solo dei gas climalteranti di quasi il 16%, ammoniaca anche, quindi un'agricoltura che comunque sta guardando al futuro, sta guardando anche lo sviluppo sostenibile. Per ridurre l'impatto ambientale ci sono alcune prescrizioni che l'agricoltore deve rispettare riguardo alla distribuzione degli effluenti. Ci sono diverse strategie che dobbiamo rispettare. La prima strategia che ormai è nota agli agricoltori è distribuirli nel momento giusto. Questo significa avere uno stoccaggio sufficientemente lungo che consenta di scegliere il momento e di non avere viceversa il momento imposto dal fatto che non ho più spazio per stoccare gli effluenti isotelici. Questo è uno dei vantaggi che l'applicazione della direttiva Nitrati negli ultimi 15 anni ha prodotto per le nostre aziende agricole. Scelto il momento ottimale, l'altro elemento fondamentale è il quantitativo di effluente che, come dicevamo, deve essere commisurato al piano di concimazione. Diciamo che la normativa attuale si sta orientando sulla copertura degli stoccaggi per evitare un'eccessiva emissione di ammoniaca. Sappiamo che la copertura degli stoccaggi non è un'operazione molto economica da effettuare quindi sicuramente si potrebbe cercare di intervenire su altri aspetti come magari dei sistemi di abbattimento a valle che sono altrettanto onerosi ma comunque meglio implementabili a livello di allevamento piuttosto che effettuare una copertura di stoccaggi fissa a un mobile che comunque comporterebbe diversi ordini di problemi. L'efficienza che viene considerata nell'applicazione delle norme ambientali può essere ampiamente superata da una buona pratica una buona pratica che prevede l'interamento il più veloce possibile e là dove è possibile l'interamento deve essere fatto prima delle 24 ore. Si sa che circa il 60% delle emissioni di ammoniaca che è una delle fonti emissive che dobbiamo ridurre avvengono entro le 24 ore per cui bisogna interrare prima. Se si può bisogna iniettare l'effluente nel suolo e questo è un vantaggio dei liquami rispetto ai letali i quali possono, i liquami appunto, possono essere interrati e molte più aziende oggi sul territorio piemontese sul territorio della provincia di Cuneo si sono attrezzate grazie al PSR di macchine che consentono di effettuare l'interramento. Sono degli svantaggi, tempi un pochino più lunghi costo delle attrezzature ma sicuramente è una delle pratiche in cui l'effluente viene ridotto in cui la perdita di ammoniaca dell'effluente viene ridotta. La regione Piemonte, per contrastare il fenomeno delle emissioni ha introdotto due misure importanti nel PSR 2014 e 2020. La prima misura è la 413 che prevede degli investimenti per gli acquisti di botti per lo spandimento dei liquami o dei digestati. Per poter aderire a questa misura, queste botti devono avere la caratteristica di poter interrare sia i digestati sia i liquami con lo scopo di ridurre le emissioni. Accanto a questa misura è stata introdotta anche la misura 10.1.5 è una misura che è stata introdotta nel pacchetto delle misure agroambientali e prevede un contributo per l'internamento del digestato che deve essere effettuato al momento della sua distribuzione. Sono misure importanti che prevedono un contributo a fondo perduto il primo sull'acquisto del mezzo mentre il secondo viene erogato sulle superfici condotte dall'azienda ed è un premio che viene erogato nell'arco di 5 anni. L'altra strada sulla quale si sta lavorando è quella dell'acidificazione dell'effluente. Se io riduco il pH, acidifico l'effluente, ad esempio aggiungendo acido solforico al momento della somministrazione, io riduco nettamente le perdite di ammoniaca. È sempre però un equilibrio. Se la distribuzione riduce le perdite di ammoniaca, riduce un impatto, aumenta il quantitativo di azoto che entra nel suolo e quindi bisogna poi conteggiare un maggiore quantitativo di azoto a disposizione delle piante, il che è vantaggioso. Tra l'altro riequilibra il quantitativo tra azoto e fosforo che io vorrei sempre avere nel suolo più spostato verso l'azoto rispetto al fosforo. Queste sono le pratiche più importanti da mettere in atto. L'AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un allevamento di determinate dimensioni in applicazione delle norme di riferimento. Nella strategia EPPC, Integrated Pollution Prevention and Control, prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento, le cosiddette BAT, Best Available Technologies, oppure Migliori Tecnologie Disponibili per quanto riguarda le prestazioni ambientali, determinano gli obblighi degli operatori industriali per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, con l'obiettivo di ottenere e mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Un'AIA, un'Autorizzazione Integrata Ambientale, è quindi concessa a fronte dell'utilizzazione delle BAT nella conduzione dei processi produttivi. Per quel che riguarda i bovini, non ci sono soglie in quanto tutti rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale. L'Autorizzazione Integrata Ambientale invece riguarda anche gli avicoli e qui la soglia è superiore ai 40.000 capi. Nella fascia tra 30.000 e 40.000 capi è invece necessario per i broiler ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale, soglia che invece va dai 25.000 ai 40.000 per quel che riguarda le ovaiole e i riproduttori da carne. Una questione preoccupante è che soprattutto il settore degli allevamenti in alcuni casi viene circondato da una serie di input negativi, per cui dobbiamo lavorare tantissimo anche col consumatore per far capire come gli allevamenti si stanno modificando, come si stanno modificando le diete mediterranee, su cui ancora alcuni prodotti della carne, della figlia, della carne, del latte, sono importantissimi nella dieta, per cui le sfide che hanno gli allevamenti sono tanti, sfide sulle diete, sfide sull'ambiente e sfide sul consumo dell'acqua, perché un altro dato che noi contestiamo è quando vengono diffusi alcuni elementi, alcuni dati sul consumo eccessivo dell'acqua negli allevamenti, sono dati che vanno diffusi con attenzione, perché l'impronta idrica, così come viene per esempio comunicato al consumatore, non sempre è corrispondente all'effettivo utilizzo dell'acqua nella filiera zootecnica, per cui c'è molto da fare anche dal punto di vista della comunicazione. Grazie per la visione!